Ciao a tutti, oggi inizia una fase nuova per il nostro paese, la fase 2, oggi 4 maggio, data storica, ho visto che il paese si è comportato molto bene, in sicurezza, molti hanno raggiunto già da oggi i propri congiunti ed è stata una situazione veramente molto bella e addirittura secondo me anche leopardiana perché dopo due mesi e mezzo, diciamocelo chiaramente, come fai a ricordarti qual era il tuo congiunto, ma siamo veramente in una situazione addirittura kafkiana direi, gente confusa, con gli occhi sbarrati andava in giro cercando il proprio congiunto, non lo riconosceva e devo dire che questa situazione è stata veramente molto bella anche da vedere, anche come immagine per l'Europa e per il mondo intero, l'Italia si sta comportando veramente bene e devo dire che se andiamo avanti così sicuramente ne usciremo perché se non ne usciamo perché a qualcuno viene la brillante idea di fare il passo più lungo della gamba, puntini puntini, non vi dico altro grazie a tutti